Tanti saluti a tutti! Sono Tafnast New Angel. Questa è la chiusura del 26 gennaio 2021. Tanti saluti a tutti! Il mio balcone è la chiusura del 26 gennaio 2021. Questo balcone, il mio balcone è appena chiuso. Questa è la casa quella lì dove ci sono i terroristi turchi. Vedi quelli di su al primo piano sono i terroristi turchi. Lì ci sono i terroristi turchi. Tutto al piano di sotto ci siamo noi. Io, Antonietto e Antonio. Poi Antonio è morto l'8 novembre. Antonio è di Chiara Maria. Abbondandolo di Chiara al piano di sotto. Via Tremiti 6. Questo l'hanno aggiusto dopo. Hanno messo questa roba qua che non si sa che cos'è. Questo è il citofono nostro, quello normale che c'è sempre stato. Tanti saluti a tutti! Via Tremiti 6. Via Tremiti 6. After New England, 26 gennaio 2021. Mercuriti. Coc week. Dopatern spooky. Prom' s��.